Sì, è arrivata la notifica. Anche a me. Anche a me. Però mi dice che ho flying. Dio Marco. No, no, no. Ecco, sono andato in mezzo alla foresta. Dai, open up. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera dell'altra volta è stato bellissimo. Allora. Piccolo problema. Porca canca. Oh, oh, oh. Finotti mi ha seminato. Non lo vedo neanche più. Vedi Ciaridadrio. No, 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 no. Gira qua e ce l'aveva avanti. Piccolissimo problema. Sono andato in mezzo alla foresta. Non riesco più a uscire. Pinotti su che radio è? Che stai da? 100 HI Radio. Ah, buono anch'io. Con la canzone spara. Sbaglio o poi la pioggia cambia anche la guidabilità? No, ma già. Io non ho mai giocato con la pioggia, quindi... No, 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 no. Uh. Oh, c'è un vara. Ma era molto più stabile prima. Dai 60. Eh. Ci siamo. Possiamo partire. Ciao a tutti, ciao a sera. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Un po' tardi proprio. Meglio tardi che mai. Eh, problemi tecnici tattici. Qualcuno mancano sempre le modi. Problemi gaming. È sempre colpa mia. Problemi di gaming che non sa aggiungere un trattore. Eh, sì, sì. Scusa, cos'è mia bo. Inoltre ti sta caricando. Dai, oh, lascia lì. Dai, vai. Ma ma cosa è driven al giorno del mondo? Qua guccia la malapena. No, da me. No, ma intendo sul gioco. Eh, anche qua a gucciola. Non sta dilugando. No, da me sta dilugando. Eh, ecco le parole. Dai, eh. Eh, ma dai. Di che però è? Eh, meglio prendendoli. Bagniamo subito ora. Eh, Pinotti dimmi a che percentuale sei. Allora, aspettate che mi apro la chat. Mi so quello che Guy Morty è più alto del tutto. No, no, no. Mi quel che... No, è Stefan quello che prende di più. Ciao, scos. Ciao. Ciao. Dai, carica trinciato. Vai, vai indietro. Sì, che mi hai d'inculo qua. Ok, via. Stasera facciamo trinciato con la pioggia. Eh, ora stavo andando per me. Mi stiamo offrendo trinciato più e più. Però, Orman, perché c'è il tutorial che è alzato? Eh, perché... Facci il dito lo scarico, così. Eh, sì, proprio, sì. Perché è pendente? Sì, ma è troppo lontano. Eh, però, in realtà, fanno anche così, eh. Eh, beh, sì, ho capito. Ma sapete guidare almeno. Eh, se... Eh, se... Filippo... Se Peter Nuzio partiva... Era lì da voi, dopo andava fino a casa a scaricare per capolire... Per tre ha portato tre rimorchi. Tre rimorchi andare fino là a casa perché dopo doveva usarli con la gui. Sì. 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 Lo stai andando, 3D? Oh! Chi è mola che mi sta cevando il trinciato? Eh, l'ho mandato avanti almeno, perché se non riuscivi a fartelo prendere. Eh, ma mi sa che ci vogliono due trinci qua. Eh, no, due trinci, se non lasciamo stare dietro ai trasporti. Come no? Ci vorrebbe una e mezza. Eh, una e mezza, eh. Eh, una e mezza, eh. Eh, ma già con una non riesce a stare dietro. Mettiamo una trinci con due ruote. Pfff. Hanno messo pubblicità adesso sulla radio. No, mi compro la musica. Eh, questa musichetta è di schifo qua. No, io c'ho Raking Balls. Guardate, c'è qua un Gaming Evolved intruso. C'è, c'è, scuace. E guarda, c'è un flippo. Ecco la Zez. 96, 98. Pronto. S'è quello finito. Scuace. Sè, sì. Faccio questo. Eh, c'è, Trevi che sta facendo freestyle. Madonna è passato un vortice attraverso la gavina. Guarda tutti che mi domandano di salutarlo. Adesso vede pure il peso dai Kawako. C'è, la capienza. il pannellino che non è in Europa andava a dire piover 30.000 80 ma anche se avete messo qua 90 con ci metto ad andare perché prima seminate a raggetto perso una settimana intera per edificare seminare tutto avete curato e il campo 14 il campo 14 lo abbiamo io fasa e mila e replicato e fresato tutto guarda che da una parte all'altra del campo ci metto 5 minuti e 40 secondi con l'offender ben cingolato ciao 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 salutatemi andonia questo è soltare che cavolo è che mi ha detto contro terzisti friulani però non so se mi sta ascoltando adesso no non so passi perché vai così avanti gaming alle 50 salute adesso ecco se sei troppo pieno anche che è andato qua a girasole a che campo no no più noti di tuo danno dell'altra sera lo rimedi tutto era piantato giro soli erpicando con l'elper è rimasto là se è il conto terzisti ti sta ascoltando trincendo qua in una partita di felippo colodente oh gaming c'è che mi è morosa in live c'è che mi è morosa online a guardare la live oggi volevo venirti a vedere solo che devo andare via volevo vedere visto che qua peron dice sempre che ti insulta perché per la maggiorete ho detto dai che andiamo a vedere come fa la maggiorete questo dovevo scampare via che modè ah squasse e l'avrà vista Milan non l'ho sentito no Marcon sto giro ha detto non l'ho sentito oh laca 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 eeeh gaming chiamo qualcuno che venga dentro a parare su adesso che ho sentito ciao amoroso di peron ma pesa se hai detto amorosa ehm c'è uno che ha scritto sono amorosa si ah ma se lei pesa no eh non so si chiama così come se c'hanno Silvio Braghetto allora se se uno fa zullo cosa scuola hai detto solo ciao si devi dire ciao amore eh se no glielo dico io so vai nel live e scrivi ci sono così so che sei là so che sei là no a casa mia che la sto trombando come faccio mi ha scritto come faccio oh però magari è generato da un altro no no si sta facendo le corne è tutto sotto controllo stai attento però non è l'intero io madonna perché mi fico io no 3 fps 2 fps oh però sai che sta facendo la torta con un altro oh inizio a scaricare e mi laggo ecco che fa laggare ma nessuno capisce li tenete sempre dentro allora vendi sto cazzo di roba adesso li scarico te lo vendo io dai che rimorcia che vuoi aspetta prima scarico no 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 ma guarda che non riesce a scaricare ho già provato su un'altra mappa e ti crasha tutto ho chiesto il fandom ma prima ce la facevo eh ma si bugga da punto eh ho visto eh vendi 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 potrei sganciare o scendere se no non riesco a venderlo eh sono 2 fps dio madonna ok ho venduto quello giusto? si si ti rimorgo voi? eh quella che ti vuoi tanto il fandom tira tutto oh compro il crampe quello tre assi eh è uscito il T7 questa settimana raga non c'è il crampe tre assi 2-3 giorni penso il mercoledì tu ti prendo il crampe con la ralla no eh si ho c'è già fa te la fatti no ma lì si è lontanissimo qua boh non ti prendo come il mio che tiene tanto eh stai la no gaming dammi i soldi prendigli una tavorra perché se no no non ne sai una tavorra no no gaming dammi i soldi se no non posso prenderli aspetta mi bastano 50.000 euro eh te do 25 buon posto posto devo diventare il milionario eh si ti piacerebbe per farming è tutto possibile ciao francesco uscirà fra questo mercoledì finisco a tre viti chiede di saluti beh c'è uno che vuole che lo saluti ciao ciao francesco vergani no ciao non so chi sei oh filippo eh hai preso il coso si è la allo shop cosa che hai preso come è mio che cosa vuoi che ti compro un fend più grosso un adesivo sotto la cloche che non si può vedere no ho peccato un peso no ma non ti serve il peso tranquillo allora dammi un altro fender io prendo come il mio no voglio S4 eh S4 come il mio allora ho S4 ti va Polo ha scritto ciao Polo no 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 ho capito no no c'è uno che si chiama filippo Polo io lo conosco ciao ci sei non so se che sei o no dai c'hai 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 dimmi che ruote ha fa se vince da tutto che lag no ah si S4 bello tutto qua sì lol dopo vieni qua blunk e si è metto aspetta per andare sotto trincia lascia una bella screen aspetta spegni i fanali te dai che c'è il rimorgo aperto te come è vero no scusate 936 bella come deve essere varse le sponde qua N sì ma quando sto chiedendo la sponda non fa più di 60 cos'è non se Piero dinamico e già fa il volo ho capito però mi trovo del sottopallo aspetta aia sta arrivando dai che dopo andiamo a scaricare insieme 63 allora come me broguero del massa grande da adria ma con si può usare sti mezzi eh ci vanno i camion prenditelo allora me lo prendo anche il cavo prendo un cavo no no tu hai GCP no no dai Ryo basta che te Pino basta che ti prendo un rimorgo che tiene di più adesso lo so sai ok ok compri con la ralla sì a loro eh no guarda che dopo è strainstabile ma va lo usavo sempre Milan cramp ah vero sì con GCP adesso te lo prendo ma devi prendere GCP aspetta aspetta dai piano eh aspetta andate ho scarico il clash e poi può la copo aspetta che dopo te li resetto eh oh gaming eh ah no eh che Filippo vabbè vai sotto che sto comprando la roba Pinotti ok mi sono preso un bel rimorchio io sono una sbaglia strada mamma 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 i rallati dovrebbero essere illegali cos'è che è? no sì hai tutto la casa sì grazie ma aspetta che mi non mi cato altro qua sono al biogas che difficile vuoi ditemi che non mi cattavo altro ma sta 980 quante ore ha? eh è presa prima prima avevo la FR da tipo 10 ore avevamo la FR con la 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 yellow bull eh quella eh dovremmo usare ogni tanto che è quella la yellow bull cioè quella che è la yellow bull quella che hai rubato a te io? siti che te pubblichi screen tipo perché hai ripostato il chat? la pubblicata screen mica la moda perché mi intrigavo dai un minuto e dico ciao ah io scorrendo perché dovrebbero essere illegali i dati allora ci scontriamo io però ciao ciao moroso di però ciao ciao io dovrei dire che tutto quello che hai detto prima non mi ha sentito eh sì e no metà sì e no è più per un no secondo me per salvarsi il culo allora aspetta illegali perché è più no che sì ma no ho già preso Trevi poi mi piace di più il tatra laga ma il tatra è 60 68 io e Marco oh coro di più il fennel che è il tatra con le man che ce l'avevo fatto io però no ecco il man che hai fatto te fai 125 eh infatti oh quello era perfetto laga oddio ma che cazzo era quel rimorchino lol come non l'hai visto eh ho fatto troppo ridere perché è corto e alto eh ce le sopra spawn da si lot eh ma andrà prima per on sotto così dopo andiamo a scaricare insieme no scontrae sto io Cristo che lagata vaffa a culo sono da dentro guarda che va ma no dai freni sto rimorchio da Drio qua ma che non si può guidare se mi tiro il freno a man se c'è da inciodare tutto il rimorchio ma continuo ad andare avanti mi travedo un GCB selvatico se io stacco il rimorchio se c'è qualcosa eh tu rimani Pinotti Pinotti è stato imbriaco no aspetto devo fare una cosa devo fare una cosa eh devo cercare di andare di lato piano piano è Pinotti l'esperto Pinotti eh dai vini pare che a me Pinotti ha tirato fuori che ero che corrivo sul lato con lo strauto pieno d'erba allora aspetto devo scaricare io aspetto devo vendere questo io Chris e poi mi compri il Fend che è tipo il mio o quello di Kodo? il tuo quello vecchio? si ma guarda che era assente a fare ah c'è la trince libera dove sei? Teron aspetta che vengo su che vengo vederlo che ti toterò ho comprato grazie però ho visto per dire Teron ma cosa fai lì? dove è? sto tagliando l'erba nel fuoco aspetta venite giù da quel Fend sto 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 toriendo le alghe venite giù venite giù che vengo a vedere come ho messo dai che Pinotti te lo dirà fuori ok lo resetto no aspetta che devo provare una cosa eh però però no sto usando lo stop quello che c'è col mio nome è quello fa zulo perché stiamo usando un salvataggio di Filippo e quindi io sono entrato come Filippo e lui con il mio nome no niente bisogna rimpostarlo non ce lo fai ci siamo invertiti i nomi eh adesso lo lo resetto ma guardi che affari tocca tornare in Drio ti resetto anche il coso aspettami là così torniamo giù assieme sto arrivando io io avrò già fatto 6-7 scarichi mi do ma che si alzava il lampeggiante ah lì c'è dentro è efficace alle 22.05 ha detto che la dobbiamo salutare e dobbiamo parlare forte perché c'è la musica e non ci sente ma non c'è neanche il play che è rimasto ma cazzo dove è Filippo sì non è alto come questo qua sono convertito così eh che lag Dio lag Filippo che stai facendo un cazzo sto andando a scaricare ma voi tagliate cazzo o no no sì 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 per arrivare prima qua da Perun taglione taglione eh può essere può essere frainteso si vede che tagliava a scuola no ma taglione può essere frainteso non dico con cosa ah perun no i muo a te però eh no sono giro la gara ahia voi quante volte avete tagliato a scuola vediamo con la forbice tante volte anche a me ecco possiamo salutarla ciao 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 ma dove c'è uno non ha scritto niente è perché non è con l'apode di youtube e allora non è neanche entrata sì ma non è difficile andare su youtube ciao fa mese mamma caro se potete dico ce la fa è anche mio ragino che ha 6 anni però ma quanti anni ha questo è la mia età secondo me si è una bambina ma va è tarda è tarda è ho c'è quello con la maggiorete infatti vero però ma che cazzo dici no ma aspetta ma filippo eh non ti sei accorto che manca una persona che sai che manca seba è vero stranamente ma è vero non ha neanche scritto stasera si è morto si sente la mancanza eh ciò qui sa nel muore della fame si è morto ma si è sempre a far casino con la baruffa no ma si sente la mancanza perché manca la tardità no manca il sapore dentro il fosso esatto volevo dirlo io beh però oh ma più no ti ferma ti dai che c'è una carovana blanca mi sai che l'hai già sussentito tu eh mi sai che sei tu il suo sostituto no ma io so solo per i trattori ma sto qua non giro che sei diverso eh mi sa che sei il mio rena sei capace aprire youtube no non ha l'app di youtube quindi non ha voglia di bisogna essere arrivano 3 su un colpo cioè ditemi c'è normale scusa come fanno una vera su tutti i telefoni non la preinstallano no non la preinstallano su nessun telefono si invece è una nemica google apps madonna se mi fanno schifo voi cazzo ti difendono invece lo mettono su tutti se è android no dai oh è una nemica android ha scritto zavor dentro il fosso punto di domanda ciao ios oh mettiti qua di fianco ma che ios squash si 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 squash si si ma purtroppo si no trovo migliore no aspetta ho sbagliato solo sistema operativo il resto fa caccare ah si ma si metti un android si metti android sul sull'iphone ciao arrivederci arco divano si non si accende neanche si imparla subito guarda che musone che è il mio eh sono andato dentro il fosso ragazzi però incredibilmente la potenza eh che pinotti ha un fend boh oh c'ho pilotese fendista no ma quando noi abbiamo iniziato questa carriera anche lui aveva il fend sul capo finché un fosso gliel'ho venduto se no aveva anche lui una ventina ma che stai facendo quella follow me oh vara che bio scaricare questa non prendesse il cron di perno sono che sta volando sta spiegando sta prendendo le ali hai giocato a fare le zone ma hai bevuto red bull eh si ma non vola è red bull tarocca è red bull cron aspetta che se lo vado io mi dà come è chiuso aspettate un attimo posso soltare un mio amico ciao 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 costa ciao 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 bello dai che forse riesco a venire lì a casa tua vedere il tuo aiutore di oggi ciao alessandro ci abbiamo molti sete solo che non lo stiamo usando perché perché si è bloccato le ruote dietro no no per usare le rimarche più grosse se non volendo posso metterci la ralla uso questo adesso ecco la piano che mi viene in culo no se tu mi vieni davanti eh addirittura eh si ciao filippo vuole essere fatto secondo me devo fare il retromarche per tirarmi sul camion ho già 0,7 ha scritto grazie per i saluti specie per il rumore quello strano che ha fatto uno il rumore strano è io che mi deco la mona sai com'è neanche non l'abbia riconosciuto mi ha buon per le carte mi si che so buon infatti ho se abituale per quello ha scritto grazie ah contento se ti mando un audio mi lo massi? eh io inoltre ho tutto no 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 gaming torna indietro gaming torna indietro eh gaming che se ti lo scampare adesso causa lag non so cosa voleva intendere ma vabbè lo so che ti piace il mio strano no davanti ma sei mona devi sbucciarmi no blocco avete blocco ancora di più ma no da trio e se no mi pianto fuori a mini se sai il motivo di me lo tra il contro che motivo c'è via il drive control non succederanno queste cose ma che cazzo dici succede lo stesso beh no mettevi le motrici uscivi da solo ma c'è lo stesso le motrici no no non puoi mettere le motrici va bene ma ce li ha già di su no poi no bene tira mia come a cosa non le ho non le tira come quando hai la drive control infatti se avevo la drive control uscivo dal fosso eh tu vedi quando c'era sembra che sgomma pure è stato un bello un giorno c'era Filippo che si stava per ribaltare io stavo andando avanti indietro Fend per la sponda con lo strutman pieno d'erba che voglio è vero era proprio correvo su sul lato del fosso ecco vedi però in quanto la conferma pesa l'iPhone di mia moglie aveva YouTube preinstallato quindi basti dire Skoas il mio no eh beh la tua osetta ruota il tuo amoroso Skoas perché fa la maggioranza ora che l'ho ripristinato quattro mesi fa era come nuovo e non c'era mica YouTube per installare c'era YouPorn per installare sì esatto ma c'è l'app quello di mio fratello che all'iPhone segna che è quello di mio papà ma cos'è c'è l'app dedicata sul Play Store non lo sapevo però però mi ha scritto mi basti mi basti già tu non ho bisogno degli altri ha 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 grazie infatti se sto fottamente di te che non gli serve un altro no 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 te che capio te che capio te che capio te male se hai bagnato solo io che faccio ha messo la faccina quella strana e da Lynch cosa? eh vedi? ma dove sei quella da queste cose? eh forse sono i Whatsapp ah la faccina pervertita esatto vedo che già capisco oh ma arriva ancora lì Alice Pannoccia Alice Pannoccia Alice Pannoccia non so la dire vabbè che esca il suo numero assieme a chiestire le tette e tutto devo uscire tu? beh c'è se se fare scherzi qua oh e il crone qua i fanai sospesi nell'aria e la luce sospesa guarda la smiata dove? sentito il Vardy delato? ah quella da Drio eh si è sbora non sta andare in là le fa fadiga per casa cos'è la patto mondo è cremona no si fa la punta quadra cos'è ma sbora non sta andare in là ha patto da caramba ma che cazzo che canto sta canzone che cazzo è Michael Bublé è quella che fanno ma che per un carino di mezza qua perché nelle strade che faccio io è più corta che cazzo scarichi là almeno fai retromarcia sarò tu me scomparì ma che è quello fermo in mezzo al campo marijuana marijuana quando è che mi è scritto Fagri non l'ho visto no però non ti faccio fare il giro turistico vieni per di qua ma fa culo voglio il giro turistico vieni che il 690 non l'ho pubblicato io è stato morto che ha preso cosa il 15 l'ha convertito io sto cominciando a subire il sonno io lo devo ancora finire compra il Fent che sarà molto molto meglio guarda qua però mira mais ma è soprattutto qualche altro Dio Cristo ho orato quasi la strada qua ah che tossine quando esce per ps4 non lo so non lo so non lo so non lo so guarda purtroppo cosa oh Filippo basta che cazzo c'è cosa stai ridendo è per lui che cazzo ridi Filippo basta 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 stavo dicendo purtroppo per la console le modi sono molto ristrette richiedono specifiche molto basse fai che lo pubblicherò c'è dovrei finirlo per martedì microedì quindi penso settimana ci sarà anche la presentazione e tutto compro lo Xerio non ce l'abbiamo tu devi preparare lo Xerio tu devi preparare lo Xerio eh non ce l'avevo tempo da settembre perché stiamo venendo sempre oh cazzo è andato dentro sul campo che c'è il canale con lo TCT perché abbiamo fatto la stessa cappella perché l'ho tagliato per gli alberi squash bene siamo quasi arrivati un'ora sul man 6.6 eh 76.6 io io 0 no c'è Perun che passa tutta manetta ma le orette le segno solo in campo o no oh Perun è gaming volved oh Perun eh sto cominciando a laggare un po' perché ci sarà mia mamma che sta sto creando un mezzo in italia questa casa la wifi ahahahah ahahahah why no 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 madonna sto perdendo il controllo fucking shit oh shit 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 man attento che siamo molto bravi shit man moonti ah tre di quattro di mettere un clac sono un'idea ah man eh devo andare da Tony ah è Dominic Tony Dominic no Dominic torretto Tony Termosifoni il nostro mercato esatto proprio fare la cagata del secolo infatti mi sono incastrato bravo come hai fatto eh ho fatto la cagata del secco gaming cosa ne pensi della nuova giavona 70 80 ma la type 498 ti rispondo dopo che sono in live 497 sì sì una bella macchina boh io preferisco alcuna di quella vecchia no io preferisco una nuova poi penso che la giocca sia tra le migliori trince no è la migliore sì però c'è anche la FR che non è malattia catana fr no catana squash non ce l'ha nessuno eh no poco lol e quanto ce ne sono in Italia dai ce ne ha uno che ne ha tre sì appunto vabbè se cosa scomparì ma che scomparì cazzo scomparì in un'attrice perché si è scomparso tutto madonna che ridere oh porca troia di buono gli è scomparso tutto non si può dire niente ma c'è sempre che ti sto offendendo te c'è uno che si chiama pollo cocaina 666 minchia brava manca solo la svastica sì però io non riesco a togliere il qua mi serve un oh chi è che mi compra un quadra gente sono qua io con le fan gente 8000R ma più che altro c'era qualcuno che pari un po' su eh appunto voglio farlo io però devi prendermi farlo col mano io trovi di cosa hai fatto lascia stare aspetta spostati ci vorrebbe ci vorrebbe il challenger con il sullevatore anteriore ah è vero pronta Carlo aspetta ma è pubblico mi sto ricando il camion prendi il magnum con il magnum catterpillar ecco adesso mi sono incastrato io sgt ah perché si fu il filaio adesso è rimasto solte prima eravamo in quattro catterpillar del bruco catterpillar lano che c'è un cazzo adesso è una scritta si magari ciao Fabio ciao tiger lol ciao ciao no dai che lettrinza è vuoto ma non ho fregato il tempo comunque si è scossa sempre detto è bello solo per i campi grande no è bella per la trinzetta grande lo so che ma c'è nessuno a guidi meglio no 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 non fermo che mi incastro io mi è che l'uso solo dai guarda che mona hai visto che stavo adesso mi incastro mai fatto il gioco nelle mie mappe piccole io dovrei scorrezzare dai scorreggia che ti devo dire aspetta aspetta shhhh si ma mutati ah 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 che testa è a casa ah ah alla milan style Dio buono! Vitti mi spussa che sa! Votto oggi sta qua, no che se ne ho scurriso! Sì, fin dopo! Quanto ho riso quella sera sempre! Prendi, prendi... Non mi viene più. Allora, prendi il... Il Ciale! No, il T8, il T8! Ma ma cara che schifo! No, prendi l'Opto! No, squad, se non ce l'ha fatta, lascia! Ma cosa? C'è, ci vuole qualcosa di potente! Se non metti il Quadrak! No, prendi il Magnum allora! No, Smartrex però! Smartrex! 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 Pesi ruote però, pneumatici larghi! No, pneumatici larghi! Gara Pinotti qua! Ma che è che... Che è che mi dà un po' di scale? Giuro che non volevo farlo! Gaming mi dai un po' di soldi! No, non posso! Come no? Sì, che puoi! Come ti chiammi! Vabbè, adesso starò muto perché... ...è un po' di soldi! 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 Ehm come mi cambiò! No! No in tutto male! Siamo tutti che piùpu di ohcapitata! Passa! perchè forse dell'ultimo perchè era tipo se si era buggato non so cosa e ce n'era uno da due minuti e poi l'altra completa il T7070 non ce l'abbiamo sarebbe questa sono anche la serie 20 guarda che figo cosa qua siamo arrivati a elevate potenze ah sto tirando qua mi sa che la curva qua e prossima volta ragazzi sarà quando tornerò dalle vacanze e questa vi dico già che sarà l'ultima live quindi questa sera ci saluteremo per un po' quindi godetevelo si 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 ma almeno sono di Romania si si di Romania che ti porta via come l'albaniero anzi cosa stai scrivendo ah stai scrivendo eh vai vai vado a rubare il rame comunque quello che si chiama gaming a volte è è Filippo no no guardate io ti scrivo sono gaming Filippo fake si tu sei fake perchè perchè in mio nome c'è i diritti d'autore quindi ti potrei querellare querellare però vasto magnum è si sei pieno o pinotti ok 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 eh però devi prendere un'altra un'altra si un'altra pala prendo un trattore massagrosso prendi il t8 così facciamo coppia no prendo l'Action 900 si quella io ho messo le tavorre quelle della ma cosa hai preso il t8? no magnum 380 gommato ah ma riesco a salire mi prendo prendo l'8R no l'8R che dopo fai da problemi con la pala l'ho già provato dopo te spiani col col muso allora prendo l'Action l'Action 950 9340 no no ti prego che schifo 950 doppie ruote no metti ruote i pneumatici larghi quelli sicuri devo prendere anche la pala eh per forse quella da 5 metri o quella dal CSZ ho più noti sito ancora qua un dono o quella dal CSZ tiene 9000 e porca paletta sto ascoltando Jason ce lo duro sai che stai ascoltando? ha detto che ce la duro eh erano con la Zem che cantava con la canzone vabbè sta laggando no 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 giro 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 oggi 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 ecco è anche basso spallare un po' si in basso ce lo fai venire fuori qui si vuoi che se 3v6 è diverso e l'Action 900 no no un po' sognando no 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 il muso è diverso no no cambia tutto cofano anche cabina che è una base eh beh è scalato solo ah è che la capa perchè si arriva a che mica volved cosa? ma qua prima di finire di parlare solo facciamo notte no ah è già notte mi sono piantato arrivo 3v ma perchè non rimposti a casa? ehm si ma faccio prima di arrivare così io l'ho rimpostato guarda io eh ma dove ti porta? io guardo eh ecco a fianco ehm 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 devi dirmelo prima vaga e sei usci il pinotti no no l'8r è squash ehm hai preso l'8r? no no qua mi stanno chiedendo di usare l'8r l'8r insieme al class cioè usare tutti e due insieme cosa fai a scrivere? magna mea brotta ma dov'è che stai scaricando però? madonna che muore però ti sei nascosto proprio ma mi deve essere che scarico ti devi portare seduta col badile no non è sito buono si che so buono guarda scarico dove sei che non posso scaricare si ma stanno a spingere si ma dai ma non puoi venire qua un pericchio ma sono venuto a scaricare la adesso non riesci a neppinare vanti si ma non puoi si ma non puoi gaming dove ca vai andrai sull'altra trinzea questa è mia o vuoi fare insieme? eh facciamo insieme se no si ma faccio però in mezzo qua no per non le vette ah ma si incioda non ho attivati qui tutto buono però su ti scarichi mezzo no dovevo riempire il buco che con lo doc aveva fatto quello bello oh cazzo ma quello che ho detto c'è ancora si si scomparì easy 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 ma non sta fermando la gaming no ma c'è il fosso come c'è il fosso si si imbriaco poi scomparo anche anche mi con come scomparino guarda non tira non c'è la draft contro ma la al bar beh io vado ci sentiamo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti guarda non tira scorso si ma che cazzo fai gaming sito 3 o far buzi mi sta bene qua se non ti sei buono cosa ha avuto se mi è buono però su eh si 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 è la palla che non funziona e perchè io riesco perchè ti si scomparì va avanti va avanti sta andando oh ma se mi farà a me qua dove c'è la trincia qua ok oh ci sono io dietro ci sono i nostri ti ho visto qui se io sono i nostri ci vedo ci sono i nostri ora che ti Zukunft per se sia il nostro non è buono non è buono? come si sta parando? no, qua che hai scaricato, non è buono no, il problema è che non abbiamo mai parato suve no, mi sono... sono impiantata ahahah allora la trincese è scossa? no, no no, nel class 800, il 900 è quello del mod up ma tu non gli hai messo le zavorre? cosa ti dà la zavorre? non ti dà niente si, compatti meglio vabbè, solo per compattare solo se fosse fosse ho detto se fosse se fosse c'è la remotion no, in realtà sarebbe la S quella negra però non ce l'ho la S di scossa quella S, la S S però si, questo manual non ce l'ho proprio bisogna andare fin su, lui non scaricarla guarda dove sono dai madonna sta malani ma cosa malani sta buono faccio il sabato senti si 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 guarda 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 per me sfiora senti che se viene addosso a me no perchè io non devo guardare dietro eh si si allora se non ti guardi dietro non prendere a me la patente prima cosa è guardare indietro no no quando pari guarda 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 mi viene addosso no mi viene quasi guarda guarda facciamo insieme vai guarda lo prendere in corso guarda l'impresistente ma dell'infermato Leader Max Dai Vai Mi ho tirato più No no Non si è vero Ti ho così messo la pala sulla faccia Mettetevi là a far tirare su qua Uè ciccio E' il Alex E' il fan 900 Con lo mio Ma chi si è sta qua con Con il ciali Gaming Guarda No, non si è Con lo doca Si è però compatta No, ormai ci si è Si è massa tardi E poi di sicuro ti mancherà un sacco di mod Ma hai ancora l'admin Quanto dura la live Ancora una mezz'oretta Penso E' anche qua Te lo lascio a te quel pezzo No no, volevo solo sapere se C'era ancora l'admin Tutto qua E non lo prendeva quel pezzo Oh, si blocca con la marmica Eh, si Cosa fai gaming? Dai, una mano la va all'altra Ti lavo Ma, se io sto venendo giù Perché mi vengi? Ma comunque se Puoi rispondere ai messaggi Quelli che riesci Sei voglia Ma chi sei? E' se è Luca Ah, ciccio 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 Ops Dopo mio Ma dove sei finito Con l'ho detto Sono qua Sono qua Eh So che non puoi parlare Mi ha dato prendere il find I pinotti Perché stai compattando Perché hai lasciato il Challenger su Così se Quel motore è acceso Però io non vedo arrivare i morti Vai, sentiamo il sonno di questo Oh, devo dire che non ho mai provato sto Sto Challenger Vediamo Eh Che motor Non venire giù Non venire giù Perché? Perché te me ti strugi tutto Ma va Resta nella tua Nella tua area Nella tua area di lavoro Guarda se mi ascolta Ma ora se si muove Sto andando all'altra parte Cosa vuoi Ma no Si è massaccevo Questo trattore Ma dai gaming Ma guarda che sto compattando qua Si ma se fai così Butti giù tutto E' oltreggiata No Si Così riusci a salire Si ma Si ma Madonna Ma guarda non butta giù niente Dai fermo Mettiti a tirare su Che è meglio Di Ma Si bè Per 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 Parare su non so se che altra banda là c'è un disastro class fpt ciao ciao tutto bene no mi hai fatto impiantare felipe che marca ho previsto come trattori New Holland Siemens New Holland Siemens class FN e anche class 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 barrio faint barrio centro mio preferito certo che questi due ha fatto i specetti ma non si può neanche regolarli non si vede niente se vede un cazzo fatti si mira rimorchio questo che deve adesso rimorchio il grigio si risponde ti è o no 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 non no ho laggato tantissimo, scusi ok che mi compro una pala me la compro io perchè c'è perchè te la devi comprare? che vuoi attaccare io vuoi attaccare dietro? così le spalle sia in avanti che indietro come la ratro reversibile rotro ratro fuck no fuck dio marco hai comprare una pala? caricatrice? l'avete mai visto? quel video lì di quel bambino adesso mi sono ricordato che tipo trova trova la carta dei pokemon di blastoise dovete vederlo, è epico col video lì vedi sto qua? ti ha fatto vedere il tuo fratello? no no è un... sono ricordato di quando andavo ancora a scuola e c'era sto qua che proprio impazziva era felicissimo ti vedi il video e ti... ti spiazzi da ridere? non era che ti sbrighi abbiamo trinunciato un foco e niente sto ricordo faccio dentro un fosso ciao pino oh guarda non va avanti io ho 22 anni sono il più vecchio qua ma è normale che non va avanti cosa? ah questa faccenda con la pala ma no era meglio la gcb è più bella c'è un motore più grintoso ma no questa non sale eh vedi il drive control così c'entra eh si si c'entra c'entra sempre scuosso ninja sport questo max c'è le mani mi confondo con max vai compriamo questa fase stai ad accanto con l'amn Sì, dalla qua ci sembra giovane ma non sembra Poi magari sarà anche il microfono che modifica un po' la voce Forse Sì, sì Andiamo a essere più grinta questo Difatti che stavo su Eh, vedi Ma è anche una roba che c'è me E anche l'altra Te l'ho detta Quale? La Liber No, ho fatto un buco Sapevi che la Liber fa anche i frigoriferi Madonna Poi si interrega a fare la caricatrice Il cavatore Eh sì, c'è il montellino dentro il frigo La forma di torta Oh, però non com'era buona la torta Sì, è buona Tutto che l'ho fatta io E così ci avete messo i denti? Allora abbiamo fatto... Panoce? No No, mi ho messo la panna con le gocce di cioccolato Poi sta roba qua E abbiamo arrotolato tutto E messo in frigo Ah, ma è finito Eh, avete fatto un rodolone? Sì E che modo acqua Da quanti metri? Un milio Non ci sarà altro rimorchi Sì, tutti a spalare qua Qua c'è che abbagare i morti e non ci sarà altro Ma ora che tira? Non ti rostro Quanto ci vuole mettere di subito? Non ci sono molto Ma... Dipende cosa... Trattore o parli come treccia? Eh, da me sono perso Boom boom Non so più se stanno Non è la parte giusto Ho sbagliato Ok, ho sbagliato Tutto che abbia una bella voglia Fare tutto qua Tasi tati Io ne sarei solo di coglione Non sarei più Vabbè, guarda quanto è ripido E poi quando si sarà Pia Sponda del Drio Si ha rotto i pistoni Sì Non varia anche dell'attrezzo Perché a volte Oh Trevi Cosa spingi? Oh oh Sì che sbagliate le porte E dipende Dicevo Dipende dalla mod Perché A volte Molti Riesco Cioè Uso quelle che Ho fatto per altre mod Con baciano Quindi Non è che li faccio Proprio per ogni mod Sennò Ci metti una vita BOMBOM GAMING Non ha senso più parole Su Ma cosa facciamo? Che diamo? Fai R No, qua c'è ancora Da parole Premi R Noi sto cazzo Guarda che Fasan l'ha fatto una volta L'ho buttato fuori Cosa ha fatto? Scendi e premi R Prova a vedere cosa succede Sbaglio Qua si aggancio da tutto Mi non riesco più A starare Il coso Niente Ma come hai fatto dopo A riprendere il silo? Ho subito Chiuso la partita Non si era ancora Per fortuna Avevi fatto poco Sennò erano bestemmie Sennò torno in Drio Nel tempo Vuole che quando tu fai salvataggi Basta che vuoi nella cartella Save Game Backup E ti puoi mettere quelli di Qualche minuto indietro Non lo sapevi? No Tipo ti fa 5-6 salvataggi Per ogni Save Game Madora Che sound che ha Sto Gtb Tira un cazzo Strog Come dice Ma che c'è un buso La Per quello Io andrei a scaricare La prima A me fa ridere i game Posto Che Gaming Prova a tirare Let me Unlazze In Che Io ti dou version Che var Chiuso los Ma che Sto per favore passare 3 che parano su 3 che larga ogni volta che arriva qua Quanto ci hai rotto le balle? Vieni in modo Devo coprire il bugio là di Avon Ma perché scarichi di là? La sto separando tu Scarica ben però 5 minuti che diamo Guarda 5 minuti muchachos E vamos Alla noche Mi hai detto proprio bellissimo Mh Vamo a stella noche A parte che A bailare con esta cancion No, non so la noche Subme la radio Vuol dire andiamo alla noche Subme la radio Esta cancion Poi non esiste Alla noche E la noche Eeeh Vabbè 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 sono negato il spagnolo però Fastez Ma che Ma che Non guarda buzo travi Quasi Quasi Ascolto già Non è solo 10 mila questa negra E non va solo Mi chiedono se sono spagnolo No no ragazzi Stavo solo dicendo Due parole così Così è la cazza Sta laggando Adesso è davvero Che culo Ho finito di laggare Ma Ma è una calma Ma è che mi ho fatto chiedere qui sia qua Ma è che mi hanno fatto chiedere qui sia qua Prendi già Ma è che Ma che cazza che lagga come la merda Mi sa che c'è un crociato È la tua connessione Ma Abbiamo Abbiamo Dingo Maradona qua Dingo Armando Maradona Ma è una combattona Adesso arriva Gaming Evolved con Cazza Z 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 Il vatica questa Laga Perchè quando mi spingi su Bo Devo arrivare io con la pala Mh Penso io Si è lagga come lo schifo però Oh Cazza Z Cazza Z Cazza Z Cazza Z Cazza Z da quando c'è quello io direi di chiedere qua salutiamo tutti ciao auguriamo buone vacanze buonanotte a tutti buon lavoro questa è l'ultima live ci sentiamo dopo settembre ciao a tutti grazie per averci seguito e iscrivetevi al canale ciao ciao